Quali sono le voci che mi occupano? Presidente, direi che è un complimento. Adesso dobbiamo stabilire un attimo il compenso e evito alloggio. Tomi, hai una casa da proporgli? Sì, una. Partiamo se le sue preferenze sono città o campagna. Capite, bravo, bravo. Cosa vi ho perso? Tomi, abbiamo da proporre in pieno centro? Direi un bel condominio all'ultimo piano con grande terrazza. Allora, dopo una proposta del genere facciamo rispondere al nostro nuovo giocatore. Accettato? Sì, accettato. Benissimo. Anche lo calino, portare un po' di serata. Sì, sì. Infatti proprio sotto alla casa c'è un bellissimo bar, un ristorante. E cosa fanno? Fanno il caffè zero? Adesso parliamo di soldi, Tomi, parliamo di soldi. Partiamo da 200 giga. Giga? Che giga? 200 giga? Tomi, 200 giga è un computer. Quindi? Partiamo da 200 mila. 200 mila al mese. Allora, attenzione, vediamo se accetta. Accettato. Accettato, stringe la mano col presidente, la mano è stretta. Ecco il nuovo giocatore della San Giorgio del Basket.